Si consolida l'asse di mercato tra Rezzo e Empoli come si vociferava ormai da giorni e passa in amaranto all'attaccante Alessandro Più, classe 96. A 13 anni è stato notato dagli osservatori dell'Empoli che ne hanno acquisito il cartellino. Nella stagione 2015-2016 viene inserito in prima squadra dall'attuale allenatore del Milan Gianpaolo e esordisce in Serie A nel settembre 2015 a 19 anni, giocando titolare nella gara persa con l'Atalanta. Nella sua prima stagione, nella massima serie, colleziona 10 presenze. Nella sua prima stagione da professionista, colleziona 10 presenze. In Serie A non male. Nell'estate 2016 è stato ceduto in prestito allo Spezia in Serie B. Alla quarta giornata arriverà il suo primo gol in carriera nella partita vinta 2-1 contro la Provercelli. Tornato ad Empoli ha contribuito alla vittoria del campionato di Serie B nella stagione 2017-2018 con un gol su 13 presenze. Sempre dall'Empoli in arrivo anche il centrocampista Alberto Picchi, giocatore duttile, con buona tecnica individuale, può ricoprire diversi ruoli. Cresciuto nel settore giovanile empolese è stato mandato inizialmente in prestito alla SPAL, poi il ritorno ad Empoli con quattro presenze tra Coppa Italia e campionato di Serie B. Il passaggio quindi alla Pistoiese con 46 presenze e tre reti in una stagione e mezzo. Sempre dall'Empoli ormai fatto il ritorno anche di Benucci. Il mercato Amaranto prevede anche l'arrivo di un nuovo terzino giovanissimo classe 2000 che rafforza anche il legame con l'Inter. Il giocatore arriva in prestito dalla società Nerazzurra. Il suo procuratore è l'ex Amaranto Daniele Amerini che come riporta il sito giallucadimarzio.com è stato avvistato per definire l'affare nella sede dell'Inter. Sul fronte uscite Basit sembra vicino al Benevento ma si lavora anche su altre partenze.